Ehi, dove sono finite tutte le frittelle di mele? E tu chi sei, piccolina? Applejack, ancora frittelle di mele! Ehi, dove sono le ponte di mele? Applejack, ancora frittelle di mele? Ehi, dove sono le ponte 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 di mele? Ehi, chi è tu, piccolina? Sono Applejack, ancora un pollo di mele! Ehi, dove sono le ponte di mele? Ehi, dove sono le ponte di mele? Ehi, dove sono gli buoni di mele? E... chi sei lei? Non ci sono un'escalante. Ciao, Applejack. Ma non ci sono un'escalante. Hovi atto in questo punto? Beh, ma che è il suo appro? Applicec, non c'è un'escalante. Che cosa si chiudete? Che cosa è un'escalante? io Applejack, c'è io яблочный парig. O, tak mi...